Non c'erano avanti? E guarda, bravo. Grazie a Fascia dell'Anza, volevo sapere se erano previsti, siccome ne abbiamo parlato, collegamenti con le altre piazze, in particolare con Taranto. Non sono mai stati fatti, abbiamo, proprio nella storia del... adesso qui proprio non c'entra nulla Taranto, nella storia del primo maggio c'è un episodio che tra l'altro si trascina presto una serie di problematiche tecniche e bestiali. Quindi non c'è nessun atteggiamento, proprio contro, ma proprio nella tradizione del concettone abbiamo sempre evitato evitato che ci possano proliferare gli schermi televisivi. Nel senso che quello che abbiamo sempre cercato di difendere più in fondo è la specificità di piazza San Giovanni, una piazza che, diceva Dario, in questo momento c'ha due papi, due papi santi, e due che probabilmente non diventeranno, non diventeranno l'uomo molto probabilmente, ma certamente siamo in una piazza assolutamente particolare. e faremo una conferenza alle due, che chiaramente sarà alle tre e mezza. Salve, mi chiamo Amro, non ho nessuna richiesta, ma vorrei dire che sono onorate della nostra partecipazione, siamo una nuova produzione italo-canadese, dove abbiamo un programma informativo, ringrazio tutti per la nostra prima partecipazione al festival di primo maggio. Spero con il nostro piccolo contributo davo qualcosa in più in Canada, in America, il programma viene anche fatto all'utilingua in russo, perché va anche in Russia, ma in varie parti della America. Ah sì, non lo sapevamo neanche, quindi voglio dire quello che mi traduzza a me, che se lo devi dire. Comunque un saluto anche al tuo parchiere, che noi lo stimiamo molto. Devi parlare molto velocemente. Va bene. Ma appunto. Grazie. Grazie.